Allora ragazzi, il tipo ha perso le chiavi in questo momento non è un altro che sta tentando con un aggeggio con due aggeggi, adesso infila vediamo se riesce ad aprire la macchina lo stesso vedete lei infila lì la macchina lì Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vediamo cosa succede. Grazie. Guarda, guarda, ha preso un altro aggeggio infernale. Ah, hai capito, ha aperto la porta così. Adesso lo sta andando sulla manetta. Vedi, va sulla manetta, tac. Guarda, guarda, sta tentando in questi modi. La manetta, Dio, non mi è scappata. L'ha aperta, grande, 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 fantastico. Ragazzi avete capito? Se restate chiusi fuori dalla macchina, questo è il metodo migliore per non spaccare i finestrini.